Buongiorno a tutti, sono Gianfranco Vitale, padre di Gabriele, autistico adulto di 34 anni. Questa precisazione è importante perché se è giusto dire che l'autismo spiazza chiunque, tale affermazione è ancora più vera al raggiungimento della maggiorità, in quanto è proprio in questa fase, che le carenze nella continuità dell'erogazione di interventi specifici si manifestano in modo più evidente in tutta la loro gravità, producendo troppo spesso un carico esorbitante per le famiglie, con il rischio di perdita di autonomia e abilità faticosamente raggiunte, di abusi di interventi farmacologici, di istituzionalizzazione fortemente segreganti. Si affermano soluzioni di marcata impronta assistenziale che, nulla o poco, hanno a che vedere con il soddisfacimento dei bisogni speciali delle persone autistiche. Siamo inoltre davanti ad una presa in carico, con una forte connotazione psichiatrica, in vera o non nuova, tenuto conto che, in una componente tutt'altro che irrilevante della psichiatria ufficiale, permangono antichettarie ideologiche fondate sul presupposto che l'autismo altro non sia che una malattia mentale e come tale va contrastato, magari con uno sbrigativo approccio farmacologico, come se davvero esistesse una via medica alla soluzione del problema autismo. E' appena il caso di ribadire che la cura, tradizionalmente intesa, non è qui né possibile né efficace, non esistono farmaci che curano l'autismo. E allora, anziché di questa cura, è fondamentale invece il prendersi cura, cioè educare ed abilitare attraverso un corretto approccio di tipo cognitivo comportamentale, l'unico raccomandato dalla comunità scientifica internazionale, perché questo sì che può rivelarsi decisivo ai fini del miglioramento della qualità della vita della persona autistica. Per realizzare questo obiettivo serve immediatamente invertire rotta. Servono strumenti realmente efficaci. Personale formato e aggiornato, perché solo una preparazione idonea del personale, solo un corretto programma educativo individualizzato, solo un corretto lavoro di rete, possono curare le persone con autismo e sostenere efficacemente le famiglie. E' necessario lavorare alla realizzazione di una presa in carico che abbia caratteristiche compatibili con le difficoltà funzionali delle persone affette da autismo, tale da rappresentare il punto di arrivo di scelte che le coinvolgono all'interno di un vero e proprio progetto di vita da costruire ogni giorno, dall'infanzia all'età adulta ed anziana, con l'obiettivo della maggiore autonomia possibile e della migliore integrazione e inclusione sociale nella comunità. Bisogna garantire a chi soffre di questa grave disabilità il diritto a una migliore qualità della vita. Il diritto, ripeto, perché i bambini, gli adolescenti, gli adulti con autismo, come ho già scritto in ripetute occasioni, potranno avere un presente e un futuro solo a condizione che i loro diritti siano per davvero riconosciuti, rispettati e soprattutto applicabili, come sancito dall'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Molto oggi si parla di diritti esigibili. La verità è che troppi diritti esistono solo sulla Carta. L'arroganza e il ricatto a cui spesso le famiglie sono esposte quasi mai rende questi cosiddetti diritti realmente affluibili. Da qui l'importanza di lavorare alla costruzione di un paradigme in cui il disabile sia finalmente visto come soggetto attivo di diritti concreti e non come oggetto passivo di assistenza. La lettera aperta che in occasione del 2 aprile ho scritto ai presidenti Mattarella e Renzi, noché al Santo Padre, lettera che ha avuto ampio risalto sulla rete, ha il solo obiettivo di favorire una riflessione, un ragionamento su una problematica sicuramente complessa ma che non è certo diventata all'improvviso. Prioritarie in questo documento le richieste di una rapida approvazione della legge sull'autismo, l'inserimento di quest'ultimo nei LEA, maggior impegno da parte delle istituzioni nel settore della ricerca e in ambito diagnostico, protocolli clinici validati, maggiori incrementi di risorse umane ed economiche, formazione permanente di tutti i professionisti e operatori coinvolti. Su iniziativa di alcune associazioni è stato proposto di fare di questa lettera una petizione. per aderire è sufficiente inviare una mail all'indirizzo petizione chiocciola autismoessocieta.org ma attenzione la parola società va scritta senza accento per cui diventa autismoessocieta.org bastano all'interno poche righe ad esempio aderisco alla petizione sul documento di Gianfranco Vitale con l'aggiunta del proprio nome e cognome e gli estremi di un documento di identità sia esso la carta di identità o la patente o altro. E' importante farlo entro il 20-25 aprile e dobbiamo essere tanti perché il documento acquisti ancora più forze e significato. Grazie dell'attenzione e un saluto a tutti. Grazie. 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 Grazie.